E' vero che nella vita matrimoniale ci sono tante difficoltà, tante, no? Che il lavoro, che i soldi non bastano, che i bambini hanno problemi, tante difficoltà e tante volte il marito e la moglie diventano un po' nervosi e litigano fra loro. O no? Litigano, eh? Sempre, sempre così, sempre se litiga nel matrimonio. Ma anche alcune volte volano i piatti, eh? Voi ridete, ma è la verità. Ma non dobbiamo diventare tristi per questo, la condizione umana è così. Ma il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga. E per questo io consiglio agli sposi sempre non finire la giornata nella quale avviate litigato senza fare la pace. E per fare la pace non è necessario chiamare alle Nazioni Unite che vengano alla casa a fare la pace. È sufficiente un piccolo gesto, una carezza, ma ciao. E a domani. E domani si incomincia un'altra volta. E questa è la vita, portarla avanti così, portarla avanti col coraggio di voler viverla insieme. E questo è grande, è bello, eh? E' bello, è bello, è bello, è bello, è bello.